Musica Aggravamento di misura cautelare per un pregiudicato cinquantenne di Mazzara che va in carcere. Sulla crisi del settore vitivinicolo gli interventi del vescovo Angelo Giordanella e del sindacalista CGL Giovanni Di Dia. Successo di presenze per il concerto di Elettra Lamborghini a Mazzara ma gravi le carenze logistiche. Domenica il derby di Coppa Italia di eccellenza tra Unione Sportiva Mazzara 46 e USD Mazzara. Lutto al braccio ed un minuto di raccoglimento in memoria di Gerolamo Di Giovanni. Ben ritrovati cari telespettatori anche oggi a questa nuova edizione del Tg8. Informazione sul canale 117 in streaming sulle nostre pagine social. Apriamo come di consueto la nostra pagina iniziale che è quella della cronaca. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Trapani hanno denunciato un pregiudicato trapanese classe 1996 per detenzione abusiva di armi e munizioni nonché di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma hanno sottoposto a perquisizione il 27enne rinvenendo in suo possesso del munizionamento illegale, illegalmente detenuto scusate, nello specifico alcune cartucce di calibro 12 e nonché una cartuccia di calibro 308. I carabinieri hanno controllato a fondo per verificare se il giovane possedesse anche armi da fuoco ma con esito negativo. Durante l'accurata perquisizione i militari dell'arma hanno anche rinvenuto oltre il munizionamento della droga presumibilmente per uso personale e hanno pertanto segnalato l'uomo alla prefettura di Trapani. Attività della polizia anticrimine di Trapani, i provvedimenti emessi dal questore nel mese di agosto. Ascoltiamo. Nell'ambito delle attività di prevenzione condotte dalla questura di Trapani, volte a limitare le condotte violente e criminali, con particolare riguardo ai reati predatori, ai reati commessi in aree urbane e soprattutto in zone interessate da esercizi pubblici, ma anche al contrasto della violenza di genere, nel mese di agosto il questore di Trapani ha emesso 15 provvedimenti di avviso orale nei confronti di altrettanti soggetti dediti alla commissione di reati predatori in materia di stupefacenti o contro la persona per reati commessi a Trapani, Marsala, Marinella di Serinunte, Mazzara del Vallo, Salemi e Petrosino. Due provvedimenti di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei confronti di altrettanti soggetti di origine palermitana che avendo commesso reati nel territorio del comune di San Vitolo Capo non potranno fare ritorno in quel comune per tre anni. Un provvedimento di divieto di accesso ad aree urbane nei confronti di un soggetto residente a Pantelleria resosi responsabile di un'aggressione a una donna nei pressi di un bar del centro di Trapani. Lo stesso non potrà frequentare le strade e gli esercizi pubblici ubicati nel centro cittadino e in particolare tutte le strade interessate dai locali della Movida per il periodo di due anni. In caso di violazione l'uomo potrà essere punito con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro. Due ammonimenti del questore per condotte di atti persecutori. Il primo provvedimento nei confronti di un soggetto alcamese residente nel nord Italia che aveva ripetutamente molestato e infastidito l'ex moglie e i loro figli. All'uomo è stata prospettata secondo legge anche la possibilità di sottoporsi volontariamente a un programma di recupero specifico per i soggetti maltrattanti nell'ambito del protocollo Zeus avviato da tempo dalla questura di Trapani con l'associazione Cotulevi. Il secondo provvedimento è stato emesso nei confronti di una donna che al cimitero di Trapani senza alcuna motivazione puntualmente infastidiva con atteggiamenti molesti e anche minacciosi un'altra signora che si recava a fare visita ai propri defunti. Tali condotte erano divenute talmente assillanti che avevano indotto la parte offesa a non recarsi più al cimitero pur di non incontrare la propria molestatrice. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Trapani hanno proceduto al controllo di alcune attività commerciali in un comune del Trapanese nell'ambito del più ampio progetto nazionale State Sicura 2023. Un primo controllo è stato eseguito presso una pizzeria dove otto lavoratori su dieci erano in nero e vi era installato un impianto di videosorveglianza privo di autorizzazione. Il titolare del locale veniva così denunciato e adottato il provvedimento della sospensione dell'attività imprenditoriale. Stesso provvedimento di sospensione dell'attività è stato adottato nei confronti del responsabile di un ristorante di Valderice in quanto dal controllo è emerso un lavoratore in nero su nove presenti. Per entrambe le attività commerciali sono state elevate sanzioni per oltre 45 mila euro. Ma continuiamo, i carabinieri hanno arrestato un palermitano di 48 anni accusato di aver abusato di un ragazzo di 13 anni che avrebbe accettato gli inviti dell'uomo in quanto era un amico di famiglia e gli avrebbe anche fatto dei piccoli regali. Le indagini dei militari hanno accertato che gli abusi si sarebbero verificati lo scorso anno in un piccolo centro del palermitano. Gli investigatori coordinati dalla procura di Termini Merese stanno accertando se ci sono altre piccole vittime dell'uomo. A presentare la denuncia sono stati i genitori del ragazzino assistiti dall'avvocato Antonio Di Lorenzo. L'uomo è arrestato, ha negato ogni accusa e ha tentato però anche il suicidio. Sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie avrebbe più volte disatteso quanto imposto dal giudice e un mazarese finisce in carcere. Ascoltiamo. I carabinieri della stazione di Mazzara del Vallo hanno arrestato un pregiudicato cinquantenne del posto in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Marsala. L'uomo in atto sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie avrebbe più volte disatteso quanto imposto dal giudice tanto da rendere necessaria l'applicazione di una misura più restrittiva. Il cinquantenne pochi giorni fa infatti è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri sotto casa dell'ex moglie che spaventata aveva richiesto aiuto ai militari dell'arma. Al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani. Nella stessa sera ha messo a segno quattro furti e ne ha attentato anche il quinto. A finire in manetta è stato un uomo di 61 anni arrestato dalla polizia. Aveva ancora con sé quanto aveva rubato nelle abitazioni tra cui soldi, orologi e gioielli. I colpi sono stati in via Giuseppe Alessi e in via Marchese di Villa Bianca. L'allarme è stato lanciato quando l'uomo stava cercando di rubare nel quinto appartamento. I condomini hanno chiamato alla sala operativa del 112 dove sono arrivate le volanti che hanno bloccato il ladro con uno zaino e la riflutiva pari a 15 mila euro. L'indagato è stato arrestato nel corso dei controlli e è emerso che nei suoi confronti c'era un provvedimento del giudice di aggravamento della misura dai domiciliari al carcere. L'uomo si era reso irreperibile per evitare di finire in cella. Ma cambiamo argomento. Sulla prossima vendemmia interviene il vescovo della diocesi di Mazzara, Monsignor Giordanella. Giusta remunerazione per l'uva, anche altri frutti sottopagati rispetto al valore reale. La lettera di Monsignor Giordanella a pochi giorni dall'inizio della raccolta. Ascoltiamo. Chi coltiva la terra e produce l'uva è necessario che abbia la giusta remunerazione per il prodotto e questo vale anche per altri frutti della terra che generalmente vengono sottopagati rispetto al loro valore reale. La dottrina sociale della Chiesa allega la dignità e la fatica del lavoro alla stessa dignità dell'uomo. Lo scrive il vescovo Monsignor Angelo Giordanella in una lettera firmata ieri rivolta a donne e uomini, figli e amati di questa terra che stanno soffrendo a causa della crisi che ha mostrato il settore vitivinicolo. Il vescovo in questi mesi appena trascorsi ha girato le comunità parrocchiali della diocesi e ha incontrato anche contadini preoccupati. Le abbondanti piogge di maggio e giugno hanno causato il proliferarsi della peronospera e dall'altro canto il caldo torrido dell'estate ha messo in difficoltà il raccolto. Ammiro la vostra fiducia nel futuro, la vostra voglia di lottare che si traduce nella speranza di un'annata migliore e mi commuove nonostante tutto il vostro amore per la terra che con le braccia e il sudore della fronte avete reso bella e ricca, ha scritto il vescovo, rivolgendosi agli agricoltori. Poi il monito di Monsignor Giordanella. Le implicazioni sociali e economiche del cambiamento climatico sono sicuramente una delle più grandi sfide che la politica siciliana deve assumere, con un occhio privilegiato verso le fasce più deboli che in questo momento sono anzitutto gli agricoltori e i lavoratori dei campi, scrive il vescovo, che nell'esporre la questione della giusta remunerazione per l'uva chiarisce che è una questione che a differenza del riscaldamento globale può avere delle risposte immediate dalla politica. Da qui l'esortazione a tutta la compagine sociale e politica e individuare al più presto, con vera equità e imparzialità, le soluzioni adeguate per risollevare il settore vitivinicolo, pensando a degli aiuti straordinari per l'immediato e a riforme strutturali per il futuro, e soprattutto attuarle avendo nel cuore solo il bene comune. Per Giordanella è opportuno che tutte le forze sane, aprendo tavoli di confronto, possano individuare vie concrete e condivise. Il vescovo nel messaggio fa un esplicito riferimento all'abbandono delle terre. Stiamo assistendo inerti e forse complici, proprio per la mancanza di questo giusto riconoscimento all'uva raccolta, all'abbandono dei campi da parte delle nuove generazioni, allontanandole da quella terra che i loro genitori hanno comprato con tanti sacrifici e che ora stanno svendendo. La beffa dopo il danno. Basta pensare alla comunità della Valle del Belice, scrive il vescovo, pronto a ribadire la vicinanza agli agricoltori. Ma a proposito di problematiche legate all'agricoltura, soprattutto legate invece al peronospera e al caldo dei mesi scorsi, che avrà come conseguenza la diminuzione drastica della produzione, abbiamo sentito il segretario provinciale della Flai CGL, Giovanni Di Dia. Ascoltiamolo ai nostri microfoni. Ultimamente il nostro territorio, che ricorda a tutti, ricorda a me stesso per il primo, è il territorio più abitato d'Italia. Sta subendo delle imbezioni di peronospera che stanno mettendo tutta l'agricoltura vitivinicola in ginocchio in tutta la nostra provincia e quando parlo di agricoltura vitivinicola parlo non solo delle aziende, ma soprattutto di quei lavoratori, e lì c'è una forte presenza dei lavoratori immigrati che hanno la necessità di lavorare e di lavorare con un rapporto di lavoro stabile perché nemmeno il permesso di soggiorno possono rinnovare alla scatenza, se non possono dimostrare la permanenza regolare con un contratto di lavoro e con un contratto di affitto nel nostro territorio. Questa peronospera che sta mettendo in ginocchio il settore viene con un combinato composto che è stato quello della calura, dei picchi di temperatura alta del mese di luglio, ha di sotto all'incirca dal 50 al 70% di produzione vitivinicola nella provincia di Trapani, quindi diciamo il rischio è la tenuta veramente sociale ed economica di questo settore. Io devo ringraziare il vescovo di Manzara, su eccellenza Angelo, che anche lui con grande sensibilità ha scritto una lettera a tutto il mondo agricolo dicendo che è dalla loro parte e sono convinto che non può essere una voce da sola che difenda questo settore. C'è una totale assenza oggi da parte della politica anche regionale rispetto a questo problema che è dettata da una da un problema diciamo burocratico perché per dichiarare uno stato di calamità nel settore e per un pezzo che è quello vitivinicolo bisogna aspettare realmente quanto sarà la perdita ufficiale della produzione, quindi si aspetteranno le dichiarazioni di vendemmia che le cantine presenteranno nel mese d'ottobre per capire se quella percentuale di riduzione fa scattare gli aiuti regionali o nazionali al settore vitivinicolo. Di fatto è che da qui a dicembre ci saranno almeno 10 milioni di euro in meno all'interno del circuito diciamo sociale della nostra provincia e ci saranno decine di giornate lavorative meno rispetto all'anno scorso quindi effettivamente abbiamo la preoccupazione che il prossimo anno sarà un disastro completo diciamo per il settore agricolo perché non ci saranno più lavoratori che si verranno impegnati in questo settore perché nel momento in cui non riescono a lavorare oggi o cambiano settore se trovano posto da qualche altra parte o vanno emigrate in altri paesi quindi il rischio è che la provincia di Trapani oggi subisca il danno diretto ma il prossimo anno ci saranno delle conseguenze che sono molto più disastrose rispetto a questo. A Marsala nell'attesa che si ripristini la qualità delle acque nello specchio di mare in prossimità del porticciolo turistico di Marsala il sindaco Massimo Grillo nell'eccezionale funzione di responsabile della sanità locale ha emesso un'ordinanza di divieto di balneazione e pesca nel tratto di mare antistante alle cantine Florio. A seguito di una verifica effettuata nei mesi scorsi con conseguenti sopralluoghi e approfondimenti da parte del comando di polizia municipale è stato accertato lo sversamento a mare di acque reflue problema che da diverso tempo si ripresenta in quella fascia costiera. Allertata la competente ASP di Trapani è stato eseguito il campionamento delle relative acque e le successive analisi hanno indicato alti indici di inquinamento batterico. Il divieto di balneazione e pesca segnalato da appositi cartelli resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie nel tratto di mare interessato. Poco lontano da Marsala a Favignana l'operazione Ghost Fishing intervento di rimozione di reti fantasma nei fondali. Il servizio. Il comune di Favignana è l'area marina protetta isole Egadi insieme con l'associazione del borgo marinaro di Punta Lunga, il diving subacqueria e i pescatori professionali di Punta Lunga ha effettuato nella giornata di martedì un intervento di rimozione di reti fantasma dai fondali. Un'attività congiunta per ribadire che il mare in salute è un bene di tutti. Le reti fantasma non solo rappresentano un inquinamento che danneggia habitat e biocenosi, ma come dice il termine stesso costituiscono una pressione aggiuntiva in termini di prelievo non quantificabile, poiché adagiate sui fondali marini possono continuare la loro azione di cattura sulle risorse alieutiche che accidentalmente ne vengono in contatto. Lo scorso mese di giugno è stata completata la rete fognaria a servizio del versante sud della zona Lidi del territorio di Marsala dove erano stati avviati i conseguenti allacciamenti alle condotte. Per sopravenuti problemi tecnici come infiltrazioni di acqua, l'amministrazione comunale ha preso atto di quanto riferito dall'impresa che ha realizzato la rete fognante e opportunamente ha dovuto stoppare il rilascio delle autorizzazioni all'allaccio pur consentendo ai residenti nella zona di presentare le richieste agli uffici comunali secondo le procedure già rese note. L'assessore Ivan Gerardi, gli uffici tecnici hanno individuato i punti critici confermato dal sopralluogo effettuato con l'impresa che dovrà eseguire gli interventi. Non dovrebbero esserci tempi lunghi per giungere alla soluzione del problema e subito dopo riprenderanno gli allacciamenti alla rete fognaria sud di Marsala. Appello per denunciare e isolare la minoranza di incivili che deturpa l'ambiente a Mazzara. I nuovi contenitori di raccolta plastica, carte vetro di Boccarena utilizzati impropriamente per il deposito di rifiuti indifferenziati. Il servizio. Un appello ad un maggiore senso civico e rispetto per l'ambiente da parte di cittadini, turisti e visitatori viene lanciato dall'assessore comunale Gioacchino Emmola e da tutto il personale dell'ufficio comunale ambiente a seguito degli episodi che si sono verificati nella litoranea Mazzara Torretta Granitola dove i nuovi contenitori per la raccolta di carta plastica e vetro installati dall'amministrazione nelle scorse settimane sono stati invasi di rifiuti di ogni tipo. Venendo incontro alle legittime istanze dei residenti di Boccarena, sottolinea l'assessore Emmola, abbiamo installato 17 nuovi piccoli contenitori proprio sul litorale ma una minoranza purtroppo agguerrita di incivili utilizza quei contenitori per il deposito di rifiuti di ogni tipo infischiandosene della corretta differenziata e creando un danno alla collettività. Chiaramente la stragrande maggioranza dei residenti del quartiere della città rispetta le regole e ha contribuito in questi anni a raggiungere risultati ottimali. Sono già numerose le multe elevate grazie anche alla videosorveglianza ma occorre la collaborazione di tutti, conclude Emmola, per isolare e denunciare gli incivili che ancora si ostinano a deturpare l'ambiente. Sabato 26 agosto in occasione della giornata internazionale del cane dalle 9 di sera al chiostro dell'ex monastero delle Benedettine in via Palermo a Partanna i volontari dell'organizzazione internazionale protezione animali hanno organizzato un evento per celebrare i fidati amici a quattro zampe. L'OIPA di Partanna sarà a disposizione con i suoi volontari per presentare le attività dell'associazione volte a tutelare gli animali del territorio, a sensibilizzare i cittadini sul tema dell'adozione e a contrastare il triste fenomeno del randagismo. Concluderà la giornata alle 18 un raduno di cani con sfilata a premi. Per maggiori informazioni e iscrizione al raduno il telefono è quello del 3270962205. Una nuova governance invece per la Funiseric service nominati nuovi organi amministrativi della società il servizio. Il commissario straordinario del libero consorzio di Trapani Raimondo Cerami e il sindaco del comune di Erice Daniela Toscano nella qualità di rappresentanti legali dei rispettivi enti soci pubblici della Funierice service comunicano che nella seduta assembleare tenutasi lo scorso 24 agosto sono stati nominati i nuovi organi amministrativi della società. Il dottore Gandolfo Spagnuolo, precedente amministratore unico della società, è stato riconfermato nell'incarico visti lusinghieri i risultati ottenuti nonostante le difficoltà determinate dalla perdurante assenza dell'unico impiegato amministrativo della società. Come componenti del collegio sindacale della società sono stati invece nominati i dottori Stefano Buscemi, Salvatore Braschi e Nunziata Gabriele, selezionati fra un gruppo di professionisti che avevano presentato le loro candidature. Si tratta di un passaggio importante per la società, dicono Cerami e Toscano, chiamata sia a sanare le gravi irregolarità riscontrate durante la gestione affidata al presidente Palermo e al dottore Fauci e ad adeguare la propria amministrazione ai controlli pubblici previsti per legge, sia a garantire un servizio pubblico efficiente e rispondente non solo alle esigenze della comunità ericina ma anche alle aspettative turistiche provinciali. Oltre alla soddisfazione personale quanto questo riconoscimento è uno stimolo per perseguire ulteriori miglioramenti a dichiararlo il sindaco di Mazzara del Vallo alla decisione della regione siciliana di conferire un premio in denaro alle località costiere della Sicilia che lo scorso anno hanno ricevuto il riconoscimento di bandiera verde da parte dei pediatri italiani. La spiaggia di Tonnarella di Mazzara anche quest'anno ha avuto riconfermato l'ambito riconoscimento. Incentivi in denaro pari a 4.750 euro conferiti dalla regione, aggiunge Quinci, ci permetteranno di investire ancora di più nella creazione di servizi innovativi e di infrastrutture in grado di rispondere alle diverse esigenze dei nostri piccoli bagnandi, garantendo a tutti un'esperienza indimenticabile. Il risultato raggiunto, conclude il sindaco di Mazzara del Vallo, è anche frutto della sinergia con i gestori degli stabilimenti balneari presenti sulla spiaggia di Tonnarella e dimostra quanto possiamo ottenere quando collaboriamo verso un obiettivo comune. A Marsala in due nidi nascono circa 120 tartarughe caretta caretta che hanno trovato la via verso il mare. Ascoltiamo la lieta notizia. Sul litorale sud di Marsala la stagione di nidificazione 2023 si è conclusa con la nascita di circa 120 piccole tartarughe. I due nidi, deposti tra il 9 e il 10 giugno scorsi, erano ubicati nel tratto di spiaggia libera tra il Lido Marina e il Lido Mediterraneo ed erano stati subito segnalati e messi in sicurezza grazie alla rapida segnalazione alla Guardia Costiera di Marsala e al WWF. Nei primi giorni di agosto nell'imminenza della schiusa le azioni di tutela si sono intensificate e i volontari hanno monitorato i nidi quasi 24 ore su 24. Finalmente a partire dal 7 agosto è avvenuta la schiusa, prolungatasi per diversi giorni e moltissime piccole tartarughe hanno trovato il percorso verso il mare. Il 23 agosto, dopo diversi giorni dall'ultima emersione, in rispetto di specifici protocolli di intervento, è stata effettuata la raccolta dei dati scientifici e biometrici tramite l'ispezione dei nidi da parte di personale abilitato del WWF Network Tartarughe e in presenza di Vitalba Chirco, funzionaria direttiva della ripartizione faunistico-venatoria. È stata rilevata la schiusa, la quasi totalità delle uova di uno dei nidi, mentre l'altro ha avuto un minore successo riproduttivo. I dati scientifici raccolti a Marsala, nell'ambito di una eccezionale annata di nidificazioni di Caretta Caretta in Sicilia, potranno contribuire alle future azioni di tutela della specie. È doveroso ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla tutela dei nidi e alla sensibilizzazione dei numerosissimi bagnanti presenti sulla spiaggia. Piero Chiambretti, apprezzato conduttore, autore e regista televisivo, è stato accolto ieri mattina a Palazzo di Città di Mazzara del Vallo dal sindaco Salvatore Quinci. Ad accompagnare il noto artista nella sede del comune, insieme al noto mercante d'arte Fabrizio Moretti, con il quale sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in barca a Mazzara del Vallo, sono stati i fratelli Natale e Piero Campisi, che con Chiambretti hanno collaborato in programmi televisivi sulla Sette ed una edizione del Festival di Sanremo. Al termine del cordiale incontro in comune, al quale hanno inoltre partecipato il ristoratore Paolo Torrente, il direttore artistico di Radio Azimut Gianfranco Campisi e la Miss Mare 2023 Aurora Ferreri, Piero Chiambretti e Fabrizio Moretti hanno espresso al sindaco Quinci e ai fratelli Campisi il ringraziamento per la colorosa accoglienza, ricevendo in dono dal primo cittadino il Crest della città. La visita è poi per proseguita nel Centro Storico e al Museo del Satiro, dove Chiambretti e Moretti sono rimasti entusiasti ed emozionati nell'ammirare il capolavoro del Pressitele e gli altri reperti archeologici e marini. Una testa di leone in marmo prezioso, intatta e in perfetto stato di conservazione è un'antica sima, ovvero l'estremità superiore del tetto di un tempio, rinvenuta a Selinut dall'archeologo John Albers durante le ricerche condotte dall'Università di Becum. La sima, appena scoperta, il cui restauro sarà avviato nei prossimi mesi a cantiere aperto con la collaborazione di esperti tedeschi italiani, sarà esposta da domani, sabato 26 agosto, all'Antiquarium del Baglio Florio nel Parco archeologico di Selinunte. Ascoltiamo le interviste realizzate da Sissi Lab, dall'archeologo John Albers, alla sestoria Francesco Paolo Scarpinato e il direttore del Parco Selinunte. Felice, crescente. Questa è una, dopo me, una sima, una sima per un tempio, ma penso non in posizione per il tempio, è in preparazione per fare un tempio. Parte di questo è fatto a Paros, trasportano qui e dopo è lavorato qui da finire. Assolutamente emozionale, non ho visto un momento come questo, io penso è un momento in una vita. Ancora una volta il Parco di Selinunte ci regala qualcosa di eccezionale, è stata trovata un'antica sima con testa di leone, a testimonianza dello straordinario lavoro che si sta facendo per la Sicilia, un parco archeologico a cielo aperto. Siamo felicissimi e continueranno a lavorare perché siamo convinti che questo sito ci può donare ancora delle bellezze rare. La scoperta di questa sima qui a Selinunte per le dimensioni e per la qualità dell'opera apre nuovi scenari possibili qui a Selinunte perché adesso gli archeologi dovranno capire a quale tempio era destinato perché è chiaramente un tempio molto grande, una delle più grandi che sono mai state scoperte. L'ultima fu trovata simile a questa cento anni fa a Imera e quindi per noi fra l'altro una sima in marmo e non come normalmente erano in tufo apre scenari veramente diversi da quelli che possono essere. Per noi è un grande pezzo che forse è uno dei più significativi e anche dei più belli che andremo a esporre nel museo qui a Selinunte e aspettiamoci di trovare anche altre cose. Questo sito dove è stato trovato sta dando veramente grandi ritrovamenti. Ha letteralmente infiammato il pubblico di Pastorella il concerto di ieri giovedì 24 agosto di Cristiano Malgioglio accompagnato sul palco da quattro ballerini che hanno fatto impazzire la platea presente. A confermarlo anche le numerose storie pubblicate nelle ultime ore dal poliedrico artista nel suo profilo ufficiale. Il cantautore paroliere tra i personaggi italiani più amati del panorama televisivo italiano è stato ospite a Marsala della Kermesse Pastorella Music Fest. Si è svolto invece ieri sera a Mazzara del Vallo il concerto della nota artista Elettra Lamborghini, un grande successo di pubblico ma purtroppo sono gravi alcune carenze logistiche. Ascoltiamo il servizio. Circa 10.000 persone hanno assistito ieri sera al concerto di Elettra Lamborghini andato in scena nel lungomare Mazzini di Mazzara del Vallo nell'ambito del programma Estate in zona blu promosso dall'amministrazione comunale di Mazzara. Un concerto di circa due ore molto atteso soprattutto dai giovanissimi che ha riscosso il gradimento del numeroso e variegato pubblico intervenuto è proveniente anche da varie parti del territorio regionale. La cantante bolognese accompagnata dal suo esuberante corpo di ballo ha interpretato con il suo stile i pezzi del nuovo album Eletraton e i successi dei precedenti lavori discografici caratterizzati dal pop di matrice latin ispanica. Alcune critiche però come in ogni festa vanno fatte effettuando una sintesi di cosa è andato bene e cosa invece purtroppo non ha funzionato. Vista la grande mole di persone arrivare da ogni parte della Sicilia oltre che dagli stessi mazzaresi sicuramente la location è scelta ovvero quella di montare il palco nel lungomare Mazzini sotto le scalinate che portano in piazza Mocarta non è stata sicuramente una scelta felice. Per quanto il lungomare sia largo non bastava contenere le enorme mole di gente pervenuta tanto che non vi era alcun corridoio e via di fuga. Le persone potevano avere accesso a tutta l'area anche quella ai lati del palco e dietro il palco per cui non vi era nessuno spazio libero tanto che i soccorsi che sono avvenuti da parte del personale sanitario della misericordia sono stati molto difficoltosi vista l'impossibilità di poter raggiungere il paziente e di poterlo trasportare ai mezzi di soccorso. Il collocare il palco in pieno centro non è stata sicuramente una felice scelta non solo per il poco spazio a disposizione ma anche per l'inciviltà delle persone pervenute che non hanno pensato un attimo a calpestare le aiuole della nuova Villa Iolanda piuttosto che a salire fino in cima al prezioso Arco Normanno già molto carente nella sua struttura. Come specificato in una nota da parte dell'amministrazione comunale sicuramente però il servizio di ordine pubblico, assistenza sanitaria, protezione civile e forze dell'ordine è stato impeccabile perché nonostante le mille difficoltà logistiche non si è registrato alcun avvenimento grave all'interno del concerto. Un'altra critica all'organizzazione del tour di Elettra Lamborghini però va fatta. Vi erano circa 10.000 persone ma solo chi era davanti il palco è riuscito in pieno a godere del concerto perché visto il palco molto basso, l'assenza di megaschermi e casse posizionate a distanza come di consueto si usa in questi eventi, tutto ciò ha fatto sì che chi fosse posizionato a distanza non poteva né vedere né sentire nulla. Sicuramente al di là di tutto la città ha bisogno di questo tipo di eventi ed è bene che si facciano. Del resto siamo una tra le poche città siciliane che pur avendo l'opportunità di spazi da anni non organizza grandi eventi estivi per cui il concerto di Elettra Lamborghini è stato sicuramente un buon modo di accogliere migliaia di persone in città nonostante i problemi logistici che serviranno a migliorare il tutto per un futuro prossimo. Un ringraziamento viene inoltre espresso nei confronti degli operatori ambientali che fin dalle prime ore di oggi hanno consentito il ripristino ambientale dei luoghi. Il lungomare è già stato liberato con lo smontaggio del palco e degli impianti e la circolazione veicolare nel lungomare e nelle vie limitrofe è stata ripristinata normalmente. Parliamo di sport. preparando come un'occasione di festa per la città di Mazzara del Vallo, un'occasione dove lo sport deve esaltarsi attraverso il ricordo della morte che ha colpito un nostro dirigente, un nostro carissimo amico, ma in realtà un figlio di questa città che ha consegnato pagine straordinarie per lo sport e che sia da questo ricordo parta anche un inno alla vita, la vita che è quella del calcio, la vita che è quella della partecipazione. Ecco, stiamo lavorando per questo, ogni anno ci siamo riusciti, spero anche con la collaborazione dell'altra società di consegnare una festa di grande calcio alla città di Mazzara del Vallo, a tutti gli appassionati e che esporti un'immagine positiva della nostra comunità. A tal proposito abbiamo già interagito con la Lega, abbiamo fatto una missiva alla Lega nazionale gioco calcio, ci ha autorizzato il minuto del raccoglimento, credo che sia il minimo che si potesse fare per ricordare una figura così di spessore. giocheremo con il lutto a braccio, invitiamo tutti a partecipare, ci saranno prezzi popolari perché ci rendiamo conto della grave crisi economica, ma non vogliamo togliere a nessuno la possibilità di alleviare i disagi quotidiani, magari attraverso un momento di partecipazione che distrae dai problemi quotidiani. Ecco, il biglietto sarà 5 euro, i ragazzi fino a 14 anni entreranno gratuitamente allo stadio e anche per la stagione ci stiamo attrezzando probabilmente a non fare abbonamenti ma a creare tutta una serie di condizioni per intervenire su chi ha difficoltà, vorrebbe essere allo stadio e magari non può. Tenteremo di raggiungere tutti questi per portarli allo stadio con il minimo costo. Sono già 109 gli iscritti al Monte Erice che si correrà nel primo weekend di settembre il servizio. 190 vetture iscritte a poco più di una settimana dalle verifiche e il numero al momento dei piloti che hanno deciso di correre alla 65esima Monte Erice. Terz'ultima prova del campionato italiano Velocità della Montagna è valida anche per il trofeo italiano Velocità Montagna e per il campionato siciliano Velocità Montagna che si correrà nel primo weekend di settembre. Nello specifico 121 vetture moderne e 69 storiche. Al via della gara automobilistica organizzata dall'automobile club Trapani ci sarà il leader assoluto del CVM Simone Fagioli che con la sua norma M20 FC proprio ad Erice avrà la prima occasione per conquistare il titolo tricolore. Fagioli inoltre va alla ricerca dell'ennesimo successo ad Erice dove ha già trionfato in nove occasioni. La prima nel 2003 e l'ultima nella passata edizione. A contendergli il successo ci saranno Achille Lombardi secondo nella classifica assoluta del CVM e Luigi Fazzino terzo nella graduatoria. In chiusura torna l'atteso evento estivo Team Clavi Summer of 2023 ottava edizione. Quest'anno si prolunga. Due giorni di unione, passione e movimento all'insegna della salute, del benessere fisico e mentale. In una location da sogno quella del Lido Costanza il 26 e 27 agosto. Attività fisica indoor svolta su bike, tecnogym e stazionarie. Come preannunciata da questa la nostra ultima notizia odierna vi diamo appuntamento a lunedì alla prossima edizione del Tg8 Informazione. Vi ricordiamo che sul sito Teleotto TV potete restare in continuo aggiornamento sulle notizie dal territorio. Musica Musica Grazie a tutti